Ciao a tutti. Le piante carnivore sono creature uniche nel regno vegetale che hanno dattato strategie ingenue per catturare e nutrirsi di prede viventi. Esse si sono evolute in ambienti dove il suolo è povero di sostanze nutritive, spingendole a cercare altre fonti di nutrimento per soddisfare le loro esigenze metaboliche. Questa necessità ha portato allo sviluppo di adattamenti specializzati per catturare e digerire prede animali, come insetti, ragni e piccoli vertebrati. Esistono diverse strategie utilizzate dalle piante carnivore per catturare le loro prede. Alcune piante, come la dionea, dionea muscipula, sono dotate di foglie a trappola, che si chiudono rapidamente quando vengono stimolate da insetti che si posano su di esse. Altre, come le nepenthes, hanno foglie a forma di brocche che contengono liquidi digestivi in cui le prede vengono intrappolate e digerite. Una volta catturata la preda, le piante carnivore utilizzano insimi digestivi per scomporre i tessuti animali e assorbire i nutrienti risultanti. Questi nutrienti, come azoto e fosforo, sono essenziali per la crescita e lo sviluppo della pianta, soprattutto in ambienti dove sono scarsi nel suolo. Le piante carnivore si trovano in habitat specifici in tutto il mondo, da paludi e torbiere, a terreni rocciosi e poveri di nutrienti. Queste piante hanno sviluppato adattamenti ecologici unici per sopravvivere in questi ambienti ostivi. Alla prossima con un'altra curiosità al volo. A presto, ciao!